Buongiorno, ci troviamo oggi a Sansevero per raccoltare le ragioni della protesta del movimento politico in l'altra Italia con la presenza del segretario nazionale Mino Cartelli. Buongiorno a tutti, intanto è una protesta insolitaria come vedete, senza corteo e senza niente, che faremo comunque il 18, ma bisognava sensibilizzare ad oggi le problematiche dell'ospedale di Sansevero, dimenticato dagli uomini e da Dio e dalle scelte scelerate della presenza della Regione. Reparti che si chiudono, poi si riaprono, poi si richiudono, unità mancanti sia fra i medici sia fra gli infermieri, insomma dei problemi gravi e seri, soprattutto in questo momento di emergenza, che bisogna risolvere. Da qui ci sposteremo a mezzogiorno in punto al Parco Nazionale del Gargano, perché lì ci aspettano altri problemi e altre necessità. Grazie.